Chiudiamo alla grande con Ciro Giustiniano e Gianni Fiorellino. Grande successo ieri a Calvizzano per il concerto di Gianni Fiorellino. In centinaia hanno affollato il parcheggio galliero per ascoltare la musica del cantautore napoletano. Ad aprire lo show le risate con il comico Ciro Giustiniani. Un anno Babbo Natale, fortunatamente, una macchina telecomandata può telecomandare con un filo, però non c'è se ne è pilo. C'è tipo, ma come è pilo? C'è tipo, chi lo può portare a Befano? Io faccio gli auguri a dieci anni a voto, dunque i miei auguri valgono per dieci anni, perché proprio perché sono buon inizio, buon tutto e buon prossimi dieci anni. Un abbraccio a tutti e auguri agli amici di Teleclub Italia. Sono felicissimo di stare qua, adesso proveremo a scaldare un po' anche perché non fa freddo, quindi mi sembra una serata giusta. E ringrazio tutti quanti che sono venuti, specialmente a chi l'ha organizzato, all'amministrazione di Calvizzano e a tutti voi che siete presenti. Adesso parola alla musica. L'evento è parte del ricco calendario della Kermess, Natale a Calvizzano, soddisfatto il sindaco Giacomo Pirozzi. Chiudiamo alla grande con Ciro Giustiniano e Gianni Fiorellino. Tutti gli eventi e già il villaggio di Natale, il villaggio di Babbo Natale, è stato un grosso successo per Calvizzano, che ci ha proiettato come al solito, oltre i confini locali. Siamo orgogliosi e soddisfatti di quello che abbiamo fatto e starà aperto fino al trend e probabilmente su richiesta dei commercianti lo prolungeremo fino all'8 gennaio. Questo a dimostrare il successo che ha ottenuto questo evento a Calvizzano.